In occasione della visita a Camerino il presidente Antonio Tagliani ha voluto prendere coscienza della situazione nel centro storico della città Ducale. Accompagnato dal sindaco Gianluca Pasqui ha ribadito la sua vicinanza al territorio e ha promesso di far presente a Bruxelles la situazione che si sta vivendo nel centro Italia ormai da più di due anni. Abbiamo modificato le norme per utilizzare i fondi regionali e strutturali passando un finanziamento del 50% al 5% per intervenire sui danni provocati dalle calamità naturali. Ma qua il problema non è di tipo finanziario, da quanto ho capito, dopo questa visita il problema è di tipo organizzativo. Troppa burocrazia, siamo sempre al solito problema, bisogna cambiare in questo paese, bisogna cambiare in Europa. Le lentezze burocratiche fanno soltanto danno ai cittadini, quando basterebbe soltanto la decisione di mandare qualche tecnico per poter andare avanti e risolvere definitivamente. Il problema è invece di tirare per il lungo, tirare per il lungo significa anche sperperare un sacco di denaro, investiamo con il denaro per mandare i tecnici che risolvono i problemi e la città può riprendere. Questa città come tante altre possono riprendere a vivere con un tempo.